Signor Ozzy Osbourne, lei è favorevole o contrario alla Cannabis Light? I che? Cannabis Light, sì o no? Cazzo, non ho capito la domanda, cazzo. No, allora, ti rispondo io, siccome gli è sordo non ci sente, finiamo tutti i voci, finiamo tutti gli fare domande, perché gli ha lavorato la felai, gli è rimasto solo da un orecchio, non ci sente più. E signor Ozzy Osbourne, cosa ne pensa della musica di merda che ascoltano i ragazzi oggigiorno? E non ti sente, gli è sordo, vocia! Allora, torniamo alla domanda in precedenza. Cannabis Light, sì o no? Fanculo, io di Light non bevo neanche la ola. Capito? Molto bene, sappiamo che quest'anno sarà in concerto a Maliseti, ci può dare qualche anteprima sul concerto di Maliseti, signor Ozzy Osbourne? No, ce la fa, ce la fa mia. Andiamo ora. Cazzo, cazzo, cazzo. Faremo tre fottuti concerti a Maliseti. Maliseti, tre fottuti in 14, 15, 16, luglio. Capito? E si fa, fotteremo la fottuta pazzia, la fottuta, la fottuta, la pazzia fottuta. Sarà una notte di pazzia fottuta, cazzo. Ma, 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 Maliseti? No, no, no. E senta, signor Ozzy Osbourne, ma è vero che lei ha la residenza estiva a Schignano. No. La casa l'avea, l'avea, poi l'ha venduta, mi ricordo, ce l'avea a Schignano su per la collina, e poi dopo mi ricordo lì e l'ha venduta, capito? Ma comunque a me mi piace per dire anche gli aromeli, perché mi sono fatto ricerci anche i capelli uguali, per dire ai chitarrista, e sono un fan, se, capito? Cazzo, va a fanculo, fanculo. Dice, fa funghi su per Schignano, vai, e tu gli trovi un fungo qui, uno là, uno qui, e uno là, e gli tronno. E non ci ho trovato una sega, una sega, gaccia nulla, fottuti, funghi, fottuti, funghi. Signor Ozzy Osbourne, conosce i cantanti italiani, cosa ne pensa di Vasco Rossi? Che, 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 che fanculo, che, che cazzo è? Che, no, 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 fanculo, cazzo.